Bene, bene, siamo alla seconda finale con Simone Fiori e Fabio Chiarella Dopo aver fatto la partita di prima c'è sempre che parte perché deve partire, non so se avete sentito ma adesso ho stoppato Bella semifinale che abbiamo visto come abbiamo fatto il boss e Giancarlo Adesso vedremo come andrà questa semifinale Ma noi vediamo... Sì, è Livio e con me in... Dammi una mano che ha finito la parola Perché stavo pensando un'altra cosa Commenterà con me Livio Avremo Livio con me a commentare mentre adesso penserà solo a mettere i punti Non so se Simone mi sente e vorrei vederlo in live per salutarlo Grandissimo, grandissimo Ho la luce negli occhi, ma ci sono Questo è vero Ciao Simone, è un piacere averti con noi E anche Fabio, vediamo anche Fabio Ciao Ciao Ecco Fabio Tutti e due Bene, sono arrivati in semifinale, contenti? Assolutamente sì Un miracolato Dai ragazzi, scaldatevi che adesso iniziamo a giocare Bene, bene Bene Buona ragazzi Mi stacco un attimo su Skype e passo insieme a Livio Discord Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti L'uomo che ci ha regalato il 180 oggi Seguite da un brand order con un giro di griglia Eh sì, bene, bene Vediamo se riusciremo a dare una bella semifinale anche tra... Ah, sicuramente sono due grandi giocatori Poi te lo scambiissimo Fiori Lo conosco anch'io L'ultima volta che abbiamo giocato mi ha battuto, non hai detto Si abbiamo giocato, però era una partita amichevole cioè non era una partita vera Nel senso che era una partita fra amici insomma Dopo aver fatto la partita vera abbiamo fatto una partitina così E ce l'ho ancora qua Ce l'ho ancora qua L'abbiamo fatta pagare, gliel'ho detto Eh vabbè Lasciamo in conti che... Sono pronto Però Simone è un gran giocatore Sì sicuramente sì Ok andiamo al bull allora Vediamo il bull Adesso vediamo il bull Vediamo la parte con il bull Vediamo cosa fa Simone Fuori Vediamo Fabio Fuori Ritirare Ritirare Fuori 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 anche fino di... Fuori 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 di nuovo Fuori 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 ancora Gli scaldamenti probabilmente ancora, stanno ancora a cercare un'autoseglie, probabilmente sì. Un software vietato proprio. Attenzione! Un risveglio di fiori, che ha soprattutto il pollice, attenzione fiori ha anche il pollice. Buona ragazzi, buona partita, divertitevi. Soprattutto divertitevi. Fate con un 20, un 5, un 19. 32 Un 32 di Simone. Avevo staccato il Skype, ma è partito da solo presumo, non so come. 20, 20 doppio. 100 Ah, sembrava un 20 doppio della seconda. Era molto attaccato al ferro. Era molto attaccato alla mia. Sessanta? Sessanta dei fiori che sarà politico, come dice il Supremo. Vediamo cosa combina, intanto salutiamo tutti quelli che si sono collegati. Sì, è arrivato. È arrivato anche il nostro arbitro Rudy. È arrivato. È arrivato. Dopo adesso si tagliati i cappelli. Ricordiamo. 55. 55 Il 55 di risposta al centro di Fabio. Vediamo. Il 5 triplo. 30 Il 33 Il 38 Vediamo che ore se.. Se si ripiglia. 59 Con 59 che poi lì non so se hai visto ma mentre si stava scaldando il fiore avrà fatto 340 di fila sì mi sembra 340 99 per mettere il centro che non vi indagano a segnare se si fa così e quindi 43 per essere sempre a battuto il giro perché ho sempre provato di qualcuno mi dica che è scarsa veramente dicono che devi abbassare un po' il volume io alzare il video non ho problemi alzare il video comunque abbiamo 71 di media per Fabio 85 85 ecco finalmente il nostro simone si ci stava entra in chiusura anche lui un 20 vediamo cosa combina un 5 ma secondo me non vuole arrivare in finale 44 fatti sa che c'è i grandi campioni e dopo il finale ha già testicato la finale quindi già ha paura secondo me non c'è la frammata finchia e invece 9-7 un buon tiro buon tiro di simone bel tiro di simone sicuramente vediamo 98 20 1 1 1 e un 57 100 invece era un 7 al driplo 18 prima 20 38 38 ma è abbaccato il ferro per un pelo per un pelo per un pelo proprio 56 per Fabio tira 2-3 16 ha preso l'8 16 adesso chiuso con la terza è un bellissimo bellissimo raccordo bellissimo raccordo a meno che non voglio essere comunque ho fatto a Fabio vediamo un 23 1-1 per portarsi in accordo già a 4 centri 81 81 già per portarsi in pale già penso da chiuso secondo me 99 99 il fiori gli sta a pulo scusate adesso gli sta a solto gli sta a solto gli sta a solto proprio Rudy dice se la telecronica viene fatta dalla Batcaverna 94 sicuramente dalla Batcaverna non penso che sono anche le camere ma c'è anche la moto mobile e c'è anche la moto bicicletta e anche il Batcane che sarebbe che sarebbe a noi che molti della chat conoscono nubi per vari motivi non possiamo dire a cosa che ne ha detto nubi ma riconosce un po' la mitologia anche se non è l'esatto la vuoi spazzare così non è l'esatto terminologia però noi diciamo che usiamo invece che dire certe cose diciamo nubi eh infatti adesso vediamo qua perché mi sembra che che sia un po' abbassato il ritmo 41 41 ancora effettivamente siamo sui 65 circa per Fabio 59 per Simone ma dai vediamo se si si lamenta 44 di Simone ci lamentiamo ma dai ancora ci va bene Simone che ha 9 lui anche quest'anno si 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 ha fatto un 9 perfetto quindi grande Simone è un Simone molto altolerante 41 purtroppo che ha dato il meglio di sei in certe occasioni sette volte non è nascito proprio a confermarsi ecco 60 di Simone vediamo cosa fa Fabio sicuramente credo in in check out 59 126 vediamo se entra Simone vediamo sì 60 60 152 rimane 152 sì dai è chiuso 57 per il subito attenzione ragazzi un altro 19 bull bull per chiudere prende un 18 sembra 94 no ha preso uno no 18 20 20 20 60 60 politico rimane 92 è doppio sì andiamo in politica ragazzi non è grave lontano la prima vediamo la sponda siamo vicino vediamo se entra questa niente è fuorissimo proprio lontano 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 ha preso quella linea è rimasto su quella linea vediamo 92 di fiori aveva proprio paura della della stringola parte col bull parte col bull di fiori di fiori seconda freccia mi sembra 67 mi sembrava 25 17 25 non riuscivo a capire dov'era la seconda la seconda freccia intanto viene una chiamata di noto 20 con 20 per rimanere chi è che è il cellulare che suona chiusa con la seconda 1 è doppio 12 si è attenzione è attenzione si è meglio si viene lì simone non è sbruffone simone non è sbruffone si si esatto insiste a fare proprio i grandi giocatori e già vuole far vedere le grandi cose adesso simone si è un po' infigliato vediamo se risponde primo triplo 20 20 vediamo se abbiamo 140 140 140 ragazzi buon anno rimane con 81 che comunque rimane incarezzata non si è venuta mai troppo adesso sono pareggiate sono su 60 di media entrambi anche Stefano adesso ci sta guardando ciao Stefano che ha vinto 181 è un discorso e ci siamo stanno giocando 180 uuuuuh grande simone grande simone e volete essere solo tu Livio a fare il 180 ah 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 ragazzi mi spiace dire ma io sono in questo paziente abbiamo perso mi sembra mi sembra che abbiamo perso qualcuno ecco ritornato ecco è rientrato abbiamo perso un qualcosa come aspetta 45 147 per simone andiamo 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 63 esatto 42 scusate io non vedo più punteggio qua allora ha fatto 42 ha fatto 42 52 52 52 52 di il money 84 mi pare adesso no triplo 20 20 100 100 un centone ragazzi doppio 16 doppio 16 chiuso con la terza 18 frecce è arrivata una chiamata e ho perso tutto quello ah ok ok adesso è parte Fabio vediamo come è fatto vediamo un attimo ripreso vediamo come è fatto mi scelgo un attimo scasso non proprio un 5 un attimo 39 un 39 eh si sente un po' male Livio non capisco perché a momenti bene a momenti così io spero che mi sentiate bene meno me 47 47 di di Fabio vediamo cosa cosa fa Simone un triplo 20 99 99 99 99 si sentite bene adesso 59 59 59 dopo 99 vediamo come risponde a Simona 55 55 55 sono sui 60 di media in questo momento di average che non è niente male no è normale è giusto è giusto 42 42 cominciamo ad andare un po' sulla zona di tranquillità di tranquillità cominciamo un po' a abbassarsi 60 60 60 politico dai 60 sta sempre bene giusto? mancano di 100 mancano di 100 180 140 60 60 60 politico infatti guarda comunque non è niente male ragazzi cioè non è niente male è sceso di un rimasto 190 per Simone 252 per Fabio 252 vediamo se risponde Fabio 120 120 120 120 120 120 buona buona vediamo è in chiusura bene poi tra l'altro perché c'è un 32 44 44 di Simona grazie tirare il bull posso andare sul 120 ma ho preso il burro, ho preso il 6 nel frattempo ho perso il video di Fabio vediamo se Simone tira sul 57 la prima va sul 20 un bel 92 un bel 92 18 18 è bull ha preso bull 36, 40, è 50 36, 14 ah, 14 sembrava 25 non è stato il giocatore non è uguale 14 14 fatto da Simone 36 rimane per Fabio ha tirato la prima sul 14 ha beccato l'11 18 rimane per il 9 a me che non fanno vediamo se riesce a riagganci attenzione 18 solo doppio 20 per la partita e qua fiori non c'è e qua fiori fa uno sfondo attenzione e ha delle attenzioni che fiori la seconda la seconda la seconda la seconda chiude e adesso andiamo l'ultimo buona buona è un bel il giorno il giorno il giorno il giorno 97 di Simone vediamo il tiro di Fabio il tiro di Fabio 43 fatti, sono esattamente pari esatto, attaccini precisi una mattina spinta rapidamente il rally che poi lo porterà in finale 60 contro la giugatola Romo 60 60 andiamo è un triplo il primo 60 60 dai e Fabio dicono da Fabio dice dai e Fabio triplo 20 140 140 dentro anche quella allora giusto, ho visto bene bellissima freccia vediamo cosa risponde vediamo come risponde 85 85 non rimane troppo all'angolo tutti e due in chiusura vediamo chi sono saliti a 62 tutti e due tanto per dire io non leggo solo vuol dire tanto 41 41 41 41 vediamo a 134 se Simona ci fa un bel regalo parte col 3 mi sembra 74 74 74 74 vediamo un bel Shanghai esatto bel Shanghai 20 prima il 20 ancora scendato mai escluso con il 45 sembra esatto 45 è 60 Simona 20 primo preso double top e non entra lontanissimo proprio lontanissimo e il W20 Fermone oggi gli gioca contro vediamo come farà questo 75 sono mille la possibilità esatto 18 18 doppio attenzione 18 doppio rimane qualcuno che ce lo dice 36 e sono 53 53 fatti con 22 con 11 non me l'aspettavo il doppio 18 non me l'aspettavo 10 chiude 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 bravi ragazzi scusate i problemi tecnici che a un certo punto qua è saltato tutto non ci ho capito più niente mi dispiace un po' per l'idea purtroppo ho spento discord sono venuto su skype bravo simone avete fatto una partita pari se uno andava a 52 l'altro andava a 52 uno a 60 l'altro a 60 65 65 62 62 identici pari proprio se ne ha iniziato a fine bravo simone che ci ha regalato il 180 giusto per dar fastidio a livio che l'aveva fatto prima bravo non glielo ho fatto fare solo a lui bravi ragazzi bravi ragazzi comunque avete giocato abbastanza bene dai molto similari sempre similari sempre attaccati accelerava uno e l'altro accelerava diminueva uno diminueva l'altro proprio pari se proprio non c'è niente da dire bene ragazzi domani ci sarà la finale tra il boss e il fiore un 180 a testa domani anche due dai anche due ok ok ragazzi ci vediamo domani salute a tutti ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao